La Puglia c'è soprattutto nei giochi che contano. Altamura e Ceregnola sono perfettamente in corsa per la vittoria finale nel girone H del campionato di serie di Gravina, Taranto e Nardò. Possono giocarsi al meglio le proprie chance di qualificarsi ai play-off nel raggruppamento che comprende anche formazioni campane e lucane. Riparte domenica 7 gennaio dopo la sosta natalizia di fine anno la caccia alla capolista potenza vincitrice del titolo d'inverno che aprirà il girone di ritorno ospitando al Viviani Lacavese, ossia una delle due vice capolista del girone. L'altra, il team Altamura, se la vedrà tra le muramiche del D'Angelo contro il Gragnano. I Murgiani, distanti due lunghezze dalla vetta della classifica, proveranno a rialzare immediatamente la testa dopo aver perso il primato proprio nell'ultimo turno del 2017 e aver conosciuto per la prima volta la parola sconfitta con Ciro Ginestra in panchina dopo 10 vittorie consecutive nel derby perso in casa contro il Nardò. Abbinamento agevole, almeno sulla carta anche per il Cerignola, quarto in graduatoria ma con soli tre punti di ritardo dal Potenza. Gli Ofantini, in serie positiva da quando c'è Teore Grimaldi al timone della squadra, ospiteranno al Monterisi la Cenerentola Sporting Fulgor. Potenza, Altamura, Cavesse e Cerignola dunque sarà, salvo clamorosi i colpi di scena, una corsa a quattro per la promozione diretta in serie C. Idem la bagarre per il quinto posto, l'ultimo utile per accedere ai playoff. Fanno parte di questa lotta anche Gravina, Taranto e Nardò, tutte impegnate nella prima di ritorno in Campania. I Murgiani inaugureranno il nuovo anno sfidando in trasferta il Pomigliano, gli Ionici se la vedranno con la Versa, i Neretini invece incroceranno il proprio percorso agonistico con quello della Sarnese. Hanno la salvezza nel mirino in fine Manfredonia ed Alto Tavoliere. I Sipontini faranno visita ad una diretta concorrente, la Turris. Il San Severo ospiterà l'altra squadra in corsa per i playoff, vale a dire il Picerno.